Una capa di silenzio avvolge anche la struttura del CRA, il centro residenziale anziani che come sappiamo è ospitato a Fertilia a seguito appunto degli avvenimenti di due anni fa quando una parte del tetto della struttura di Viale della Resistenza crollò. Un silenzio inspiegabile che davvero ci preoccupa molto perché finiti i clamori della campagna elettorale, finite le passerelle di ministri, ex ministri, candidati, di questa struttura non si parla più. Vorremmo poter affrontare questo tema in Consiglio Comunale, vorremmo poterlo fare nelle commissioni consigliari competenti, vorremmo poter conoscere realmente lo stato dell'arte dei lavori che dovevano essere eseguiti per migliorare sicuramente le condizioni di vita degli ospiti e di lavoro dei tanti operatori che all'interno vi operano eppure di tutto questo non si parla più. Il CRA è sparito dai radar della politica algerese, è sparito sicuramente dall'agenda del sindaco Conoci e della sua giunta, ma è dovere dei consiglieri comunali invece porre l'attenzione su quelli che sono ancora dossier e temi aperti e che debbono essere risolti, per cui non c'è tempo da perdere. Chiediamo assolutamente una commissione, chiediamo di poter entrare all'interno della struttura, poterne parlare, poterci rendere conto con i nostri occhi di quella che è la situazione reale, di quelli che sono i lavori fatti e non fatti e chiedere conto delle eventuali mancanze di una gestione che da un anno a questa parte lascia molto a desiderare. Il silenzio non può avvolgere anche i nostri anziani. L'ostello di Fertilia, due anni fa venivano trasferiti qui gli anziani in seguito al crollo del tetto del Cradi Via della Resistenza. Ricorderete le polemiche, le pesanti polemiche, che le visite qua di alcuni partiti del centro-destra, in particolare la Lega Nord, costruì qua buona parte della campagna elettorale, sia per le elezioni regionali che per le elezioni comunali, con numerose polemiche su questa scelta. Ecco, questa scelta successivamente è stata riconosciuta una scelta buona dalla stessa amministrazione del centro-destra, cioè il paradosso è che dopo aver scelto una campagna elettorale, il sindaco ha affermato davanti alle telecamere in consiglio comunale che questa scelta dell'ostello di Fertilia fu la scelta migliore vista le condizioni date. A oggi gli anziani sono qui quindi da due anni e il centro-destra, dopo aver fatto tanta demagogia, riconosce che quella fu una scelta buona. Però la struttura va ovviamente adeguata e tutto ciò ancora non è stato fatto, nel senso che nel primo anno, dal 2018 all'elezione del 2019, furono fatti numerosi lavori, ricorderete qua le squadre di in-house che sistemarono la costituzione e la resero utilizzabile nei nostri anziani, ma nel frattempo c'era tutto un cronoprogramma da rispettare, c'erano tutta un'altra serie di lavori che andavano fatti, le coperture di camminamenti, l'aria condizionata, le zanzarieri, tutto ciò non è stato fatto o perlomeno, non sappiamo se sia stato fatto, ma al momento non ci risulta e vorremmo saperlo, per questo stiamo chiedendo sia pubblicamente, ma lo faremo anche formalmente, che ci sia una convocazione della commissione, che ci venga detto cosa si sta facendo per adeguare questa struttura, visto e considerato che è evidente che ancora gli anziani dovranno rimanere qua per lungo tempo, perché sappiamo che è stata esclusivamente affidata il progetto preliminare della ristrutturazione del vecchio CRA e come lo stesso sindaco, ripeto, ha dichiarato in consiglio comunale questo posto è la migliore società possibile, ma soprattutto in questo luogo, l'ha detto anche lui, gli anziani dovranno rimanere ancora molto, quindi cerchiamo di renderlo adeguato, di renderlo fruibile, di renderlo il più idoneo e il più confortevole possibile per coloro che lo devono vivere e abitare tutti i giorni.